Questa è un'intervista a una sognatrice, Viola, della squadra Bright. Nome? Viola. Cognome? Bezzotta. Età? Otto. Fascia? Ennia. La storia che ci accompagna durante il CRE è quella dell'Odissea. Qual è secondo te il sogno di Ulisse? È rincontrare la sua famiglia. Perché? Perché è rimanata. Qual è il tuo sogno? Diventare veterinaria. Perché così posso aiutare gli animali che rischiano di sostituzione e che non possono mettere i animali nel mondo e si possono anche adattare. Sognare. Secondo te a cosa serve sognare? A realizzare una cosa. che tu vuoi tanto fare. Sognare, secondo te, può migliorare il mondo? Sì. Perché? Perché ognuno può realizzare quello che vuole e così si può migliorare il mondo. Ti viene in mente un cartone animato dove un personaggio sogna il suo futuro? Cosa ti piace di lui? Cosa ti piace di lui? Sì. Che è Cat Ballon Dye e interpreta Cat e mi piace di lui, mi piace di lei che si veste sempre da casa. Sognare e viaggiare sono due attività che hanno un legame tra di loro? Sì, perché naturalmente se tu sogni di andare a mangiare un gelato, se non lo sogni, non sai cosa fare. Invece se non lo sogni, hai già un gelato che mi fanno. Dove ti piacerebbe viaggiare? Il mio. Ulisse è un gran viaggiatore. Secondo te perché durante un'attività avete costruito dei mezzi di trasporto? Perché così puoi andare più velocemente perché è tipo da qua e lo potete vivere in un'attività, non mi piace di me e quindi ho questo intervento. Salutati voi. Ciao Dario! Ciao Dario!